Questo evento è nato tantissimi anni fa con l'intenzione di lanciare un messaggio attraverso lo sport. Il messaggio è appunto quello della solidarietà e del tono del sangue. Quindi cerchiamo attraverso appunto questo evento che viene organizzato ogni anno e che si svolgerà questa volta in tre giorni, 29, 30 e 31 luglio, il 31 luglio sarà proprio il giorno della traversata per sensibilizzare la cittadinanza al dono del sangue, quindi al gesto della donazione del sangue che si fa particolarmente importante specialmente nel periodo estivo. Quindi attraverso un gesto come quello appunto sportivo e attraverso la condivisione insieme ad altri sportivi donatori che verranno a fare questa traversata vogliamo rinnovare l'impegno e quindi il pensiero a tutti quanti per così sensibilizzarli a questo gesto. Avete organizzato questa traversata della solidarietà a un periodo come quell'estivo in cui c'è molto bisogno di sangue? Questo è il messaggio importante. Sono contenta che la quinta edizione è partita alla grande proprio perché il bisogno di sangue è sempre un bisogno pressante. Come presidente dell'Adesperm di Reggio Calabria il mio messaggio è questo, di fare un appello ai donatori e ai non donatori. Proprio lo slogan dice proprio questo abbraccio che bisogna fare verso chi ha bisogno di avere il nostro sangue per poter lottare.